ebrei capitolo 10 infatti poiché la legge possiede un'ombra dei beni futuri ma non la sostanza delle cose stesse ma gli uomini potranno o ai potranno gli uomini con i stessi sacrifici che continuamente offrono di anno in anno vedere perfetti coloro che si avvicinano qui si sta parlando lascio poi a voi continuare la lettura per brevità stiamo parlando dell'antica alleanza in questa alleanza i peccati del popolo non potevano mai essere completamente cancellati da cui la necessità di offrire continuamente sacrifici animali notiamo che i sacrifici animali non venivano fatti per santificare solo i leviti ma tutto il popolo insisto lo stesso vale per il sacrificio di Cristo esso non santifica solo alcuni cristiani ma tutti i cristiani che ottengono misericordia attraverso la loro fede l'attore di Guardia invece scinde senza base scritturale la mediazione di Cristo e il sacerdozio di Cristo Gesù è sacerdote per tutto il popolo ma mediatore solo tra Geova e 144.000 questo non ha fondamento scritturale da versetto 5 in poi poi leggiamo della nuova alleanza in cui il popolo di Dio viene purificato appunto una volta per tutte grazie al sacrificio di Cristo ma non si tratta di purificare solo le viti ma tutto il popolo ma cos'è che ci purifica? la fede in Cristo che permette il perdono dei peccati quindi qui stiamo parlando di tutti i cristiani non di un sottogruppo di un'elite sono i cristiani che oggi formano questo popolo di Dio della nuova alleanza un popolo che può essere santificato dal sacrificio perfetto di Gesù grazie alla fede Amen dicono gli amici evangelici versetto 11 in poi questo passaggio sottolinea la santificazione totale completa e perfetta ottenuta attraverso il sacrificio di Cristo chi è che ottiene quindi il perdono dei peccati? è la santificazione quindi che ne deriva tutto il popolo di Dio i cristiani non solo alcuni non ci possono essere cristiani fuori dal popolo di Dio e tutti nel popolo di Dio sono cristiani se credono nel nome di Gesù e quindi attraverso la fede sono purificati dei peccati poi ancora la lettera dei libri continua dicendo qui l'autore fa ancora una volta riferimento diretto alla profezia della nuova alleanza contenuta in Geremia 31 33 e 34 e quindi conferma che tutto il popolo di Dio beneficia del perdono dei peccati e andiamo verso la conclusione i cristiani santificati e purificati continua riassumendo la lettera agli ebrei sono pienamente capaci di accedere al luogo santo mediante il sangue di Gesù di accedere cioè al Regno Celeste proprio come fece Gesù dopo la sua resurrezione sacrificio perdono dei peccati santificazione accesso al luogo santo tutto questo alla fine vedete è logico in sintesi e questo è ciò che dice la lettera agli ebrei in nessun versetto delle scritture viene affermato che il sacrificio di Cristo santifica solo una particolare classe di cristiani e non altre da nessuna parte si parla di persone che trarrebbero beneficio dal sacrificio di Gesù senza far parte del popolo di Dio che invece lo schiavo limita a soli 144.000 o addirittura dice che la Bibbia è stata scritta solo per gli unti ma queste cose sono aberranti da nessuna parte si parla di istituire una classe di leviti spirituali che officerebbero per altri cristiani Gesù è pienamente capace di chiedere per tutti i cristiani come mediatore questo è proprio il suo ruolo loro hanno sostituito Gesù Cristo con gli unti se ci pensate è così a contrario abbiamo visto che Cristo sostituisce l'intero sacerdosio dell'antica alleanza ogni sacrificio sostituisce per mezzo di lui il popolo intero tiene il perdono perfetto definitivo dei propri peccati tutti i cristiani santificati resi santi possono avvicinarsi a Dio e cedere al Regno Celeste poi ammesso che Gesù abbia stilato il patto solo con i suoi discepoli nel pasto serale allora rispondiamo con Giovanni 17,20 dove Gesù è chiarissimo dice che ora sta parlando non solo per i suoi discepoli ma anche per tutti coloro che faranno professione di fede in lui per i quali prega e dei quali dice voglio che siano anche essi con me in cielo affinché contemplino la mia gloria non solo i suoi discepoli ma tutti coloro che faranno professione di fede in lui vedete carissimi del resto è a tutti che Gesù ha rivelato il vero volto del Padre che ha raccontato il Padre a tutti ha detto chi veramente è Dio cioè ha fatto conoscere il nome di Dio la sua personalità la sua essenza e dà il potere di diventare figli di Dio a tutti come dice il prologo della Vangelo di Giovanni a tutti coloro che credono in Gesù nel suo nome che credono cioè a ciò che Dio ha operato in Gesù che vuol dire appunto Yahweh salvo grazie della scuola grazie grazie